Il festival per me è divertente, innovativo, ma allo stesso tempo tradizionale ed importante. Secondo me la valenza del festival è riportare all'assoluta modernità la nostra identità culturale. Le mie aspettative erano di trovare persone simpatiche, gioviali e giocose, persone che avrebbero dovuto unire il tradizionale al moderno in una rilettura assolutamente sociologica dello stare insieme e ho trovato perfettamente quello che mi aspettavo.